bene cari saluti e siamo qui per una one bite cioè per quello che riesco a consumare in una sola volta questa volta siamo con un panino del mcdonald che adoro il filet o fish che ha un nome beh scusate un attimo preparazione mi hanno detto di prenderlo un po prima ma siccome voglio fare tutto chiaramente qui con voi allora la prendo in vostra compagnia ci siamo prepariamo ancora un po d'acqua quindi vi dicevo siamo qui col filet o fish beh bando alle ciance e iniziamo ricordando che c'è stato un grande record si tratta di un video breve di poco più di due minuti naturalmente del più grande campione in cui in 60 secondi ne mangia ben nove inimitabile incredibile del number one primo un po Grazie a tutti. È un po' freddo, però questo panino è sempre eccellente. Grazie a tutti. Pure che non li conto, c'è molta trasparenza. Questa è la seconda. Grazie a tutti. 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 Grazie 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 a tutti. E' stato un bello aiuto. Guardate che bello questo qua. E poi soprattutto in foto si vede a volte che è rovinata la parte di sopra. Invece guardate dopo un po' di tempo che le ho comprate come si è mantenuta bella. Scusate, 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 scusate c'è una tosse che mi sta dando fastidio per tanto tempo. Grazie a tutti. e poi... una combinazione di sapori davvero unica buonissimo tu sei un grande campione, inimitabile i miei in quasi 18 minuti buoni togliendo i preamboli sono stati 8 eccoli qua 2 3 4 5 6 7 ed 8 eccoli qua i miei 8 io ne ho fatti 8 vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci alla prossima buona quotidianità a tutti grazie a tutti grazie a tutti